Castro deve rientrare verso l'area, la tocca per il proprio portiere Sorrentino, attenzione che il tocco è corto, c'è anche un intervento piuttosto brutto da parte di Aja Pong che viene ammonito in questo frangente. Non era cattivo come detto l'intervento da parte di Aja Pong che ha visto Sorrentino in ritardo sul pallone e ha deciso di andare in scivolata. Attenzione che si apre qualche battibecco, ci sono un po' di scintille in mezzo al campo perché il tocco su Sorrentino c'è stato ed è stato effettivamente duro. Vediamo nel replay Aja Pong che è andato fino in fondo, colpisce in maniera piuttosto aspra la tibia del portiere Clivense. Finalmente forse poteva considerare di essere in svantaggio, il portiere del Chievo sembrava poter arrivare prima sulla sfera senza troppe difficoltà, perciò Aja Pong in termini sportivi avrebbe potuto tirare indietro la gamba. Certo è che nel gioco del calcio interventi del genere possono capitare, l'ammunizione per Aja Pong è giusta e sacrosanta. Il fallo su Sorrentino è altrettanto lampante e sacrosanto. E quando siamo al ventisettesimo minuto di gioco la partita è ancora ferma sullo 0-0 e anche il gioco è fermo per permettere le cure a Stefano Sorrentino. C'è anche qualche consultazione da parte di Tagliavento. Potrebbe riguardare magari il colore del cartellino di Aja Pong per l'intervento. Attenzione perché infatti viene chiamato il VAR. Viene chiamato il VAR e questo potrebbe essere un colpo di scena che cambia la partita. Tagliavento deve andare a visionare le immagini, tutti col fiato sospeso al Bentegori perché al ventottesimo minuto Tagliavento va a rivedere l'intervento di Aja Pong. Ammonito in un primo frangente, ora il cartellino rischia di essere di un altro colore. La tensione di Aja Pong che ha chiesto scusa, ha ricevuto anche qualche buffetto di un giocatore del Chievo inferocito che non ha perdonato l'intervento in ritardo da parte del giocatore Neroverde, scuote la testa Tagliavento, sembra dire no no, sembra essere tutto confermato. Forse no perché viene chiamato il VAR e attenzione che il cartellino dovrebbe essere di un altro colore. Cartellino rosso, si avvicina minaccioso, Tagliavento ed espelle Aja Pong. Partita che al ventottesimo minuto cambia in una frazione di secondo. Espulso Aja Pong dopo l'intervento del VAR. Partita che come detto aveva fornito pochi spunti finora, questo però potrebbe essere un dato decisamente influente in termini di risultato.